Noi non inseguiamo modelli stranieri, noi troveremo una via italiana all'utilizzo del Green Pass. Al tempo stesso stiamo lavorando con le regioni, con il Ministro Speranza, non solo per concentrarci sulle vaccinazioni, ma anche sull'assistenza domiciliare, sulla telemedicina, sul potenziamento della medicina di territorio. Questo è un tema che si tratta spesso al tavolo della conferenza. Sappiamo che il Covid ha messo in evidenza delle lacune del nostro sistema sanitario, ma c'è da parte del Governo e anche da parte delle regioni la consapevolezza che le risorse dell'Unione Europea vanno spese per colmare questi gap, perché la salute deve essere al primo posto. C'è stata una stagione di tagli e di razionalizzazione, oggi sappiamo che su questo tema bisogna invece investire.